Medici di famiglia in campo per accelerare la campagna vaccinazione e per somministrare agli assistiti la terza dose. In provincia dell'Aquila metà dei medici di famiglia è aderito alla campagna e in questo momento si stanno somministrando i richiami che possono essere effettuati in ambulatorio ma anche a domicilio per chi ha necessità. Già ad aprile i medici di base avevano iniziato a somministrare prime e seconde dosi. A disposizione attualmente c'è il vaccino Moderna che è più semplice rispetto al Pfizer che deve essere consegnato in dosi già preparate ma sostanzialmente si tratta di due vaccini simili e per questo per il dottor Vito Albano non ci devono essere timori se si fa un vaccino diverso per la terza dose. Noi abbiamo cominciato con le terze dosi da circa una ventina di giorni, c'è stato un po' di ritardo nell'inizio della consegna ma adesso le consegne stanno procedendo con regolarità, anzi colgo l'occasione per ringraziare pure l'associazione degli angeli in moto che le va a prendere al centro vaccinale e ce le porta nei vari studi. Qualcuno ha paura o ha difficoltà nel cambio eventuale di vaccino e qui colgo l'occasione per dire che al momento come terze dosi sono stati autorizzati solo il vaccino Pfizer e quello moderno, cioè i vaccini ARNA. Aver fatto l'uno e fare l'altro non è una cosa preoccupante perché sono vaccini che funzionano più o meno in modo uguale. Il carico di lavoro dei medici di base è importante anche perché lavorando spesso in associazione con altri medici capita che si effettuino vaccinazioni anche a pazienti di medici che non hanno aderito alla campagna. A questa attività va aggiunta quella ordinaria ambulatoriale ma anche la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Il dottor Vito Albano invita comunque tutti a vaccinarsi, solo così si bloccherà la diffusione del virus. Teniamo presente che oggi fare il vaccino è importante soprattutto quando ci sono le varianti. Teniamo presente che le varianti non sono una cosa strana. I virus mutano, mutano facilmente perché hanno un ritmo di replicazione altissimo. Di conseguenza le variano facilmente. Fare il vaccino e cercare di farlo a un'altissima percentuale della popolazione è importante perché il virus circola meno e di conseguenza si replica di meno, di conseguenza varia di meno. Se vogliamo deberlarla, l'unica via sicura che abbiamo, oltre alle precauzioni che comunque vanno prese, è quella del vaccino. Grazie. 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 Grazie.